Un vero tesoro nel cuore di Caponapoli, il secondo museo più visitato secondo TripAdvisor in città. Nella prossima puntata dell'altra campagna vi mostreremo i tesori del Museo Anatomico del Musa, il sistema museale dell'Università della Campania, Luigi Van Vitelli. L'unico contesto nel quale si studia nel presente, con il passato addosso e con il futuro già negli occhi, per cui non c'è niente di più bello di immergere questi ragazzi che hanno voglia di imparare in un contesto storico antico, passare per quello che loro fanno oggi e proiettarsi nel futuro, che è la cosa più bella forse per un ragazzo. Una mostra unica di reperti anatomici di ogni genere, che spaziano dalla collezione delle petrificazioni di Efisio Marino, passando per i preparati per calcinazione, senza dimenticare la sezione delle mostruosità fetali, fino ad arrivare alla collezione di scheletrologia. Il Museo Anatomico è veramente la dimostrazione che nella prima metà dell'Ottocento, fino al termine del regno delle due Sicilie, con la casa dei Borbone, in realtà il Sud Italia era l'eccellenza scientifica italiana. Un'esperienza interessante che miscela morte e vita nello slancio unico della ricerca scientifica nei secoli. Noi siamo animali visivi, visivi e cognitivi allo stesso tempo. E quello che ci attrae è indubbiamente anche nell'orrido, la bellezza dell'orrido. Quello che si vive visitando questo museo è che la forma è bellezza. Grazie.